Lupini, ricchi di proteine, trattano il diabete, abbassano il colesterolo e regolano la pressione I lupini appartengono alla famiglia dei legumi, anche se vengono consumati come frutta secca Sono ricchi di vitamina A, B e C, omega 3 e omega 6, ma anche di moltissimi minerali come lo zinco, il ferro, il calcio, il potassio e il manganese I lupini sono utilissimi per regolarizzare lassimilazione dei nutrienti, e sono consigliati a chi conduce una dieta vegetariana in quanto capaci di fornire allorganismo alcune proteine indispensabili I lupini hanno quantità di proteine simili a quelle della carne I lupini danno anche energia e, contenendo acidi grassi omega 3, prevengono i danni dei radicali liberi e linvecchiamento cellulare. Sono molto utili per regolare i livelli di colesterolo e la pressione sanguigna Inoltre, il trocoferolo contenuto nei lupini aiuta a trattare e ad alleviare i sintomi del diabete di tipo 2 I lupini sono stati in Italia La ricerca di gelosi è una riscaldata Ma la ricerca di gelosi è una riscaldata